Il caso dell'occupazione del Grizzly è molto emblematico, ma occorre fare alcune precisazioni. Un intervento sabato di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per controllare quindi un'attività investigativa in regola. I ragazzi, come la città di Fano ben sa, hanno impedito che le forze dell'ordine potessero entrare. Allora, subito va detto un grande applauso alle forze dell'ordine che hanno saputo agire con grande professionalità in una situazione che poteva essere veramente incandescente. Quello che stupisce è il grande silenzio della politica della maggioranza, in particolar modo dell'enfant prodige della sinistra fanese, l'assessore a legalità Mascarine, perché ormai sono passati quattro giorni da sabato e non c'è stato un intervento preciso e chiaro per dire semplicemente due cose. La prima, un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro che hanno fatto. E la seconda, che creare problemi alle forze dell'ordine, non entrare dentro lo stabile per il terrore, non farsi identificare, creare un cordone è un comportamento illegale e che non va assolutamente fatto. Quindi io mi auguro che Mascarine voglia accogliere questo invito e venga a Fano TV dire chiaramente sia legalità e non all'abuso.